Siamo con il signor Giovanni Izzi che è responsabile di questo concorso che oggi vede la sua conclusione però naturalmente ha avuto un iter, è figlio di un progetto lungo e costruito, il concorso si chiama Vinci 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 Sigma, un concorso organizzato da Sigma a livello nazionale dove noi abbiamo avuto la fortuna di poter dare alla nostra clientela l'opportunità di giocare con noi giocare nel fare la spesa e poter anche vincere tanti premi, fra tutti i premi quello più ambito era la macchina e oggi siamo finalmente qui a consegnarla Come nasce questo concorso, questo progetto e ce ne saranno altri? Sì, noi siamo abbastanza vivaci da questo punto di vista, oltre a quello che è la normale raccolta premi che viene fatta ogni anno con il catalogo dei punti in cui si possono scegliere premi in base alle proprie esigenze o ai propri piaceri ci sono questi altri concorsi che vengono aggiunti di durata variabile dove facciamo proprio giocare al consumatore per farlo divertire non soltanto nel fare la spesa ma mantenere sempre viva l'attenzione, far capire al consumatore la nostra attenzione verso di lui è sempre viva, la nostra clientela per noi è il nostro patrimonio Qual è la risposta che avete ricevuto dalla vostra clientela? Molto buona, molto positiva, ovviamente chi non vince lì per lì dice sempre e allora il famoso ritenta sarà più fortunato ma tutti i vincitori sono ben contenti quindi penso che sicuramente chi ha vinto tornerà a giocare ancora di più quando lo riproporremo Siamo con la vincitrice di questa bellissima Fiat 500, Carla Parisella, allora cosa hai pensato? Grattando è uscita la scritta complimenti e hai vinto una 500 Lì per lì... Le cose a cui uno non crede No, infatti lì per lì sembrava più uno scherzo Poi invece i gestori del negozio mi hanno detto no no, la macchina, quattro ruote grande, la vera E ora la stai vedendo Sì, infatti Come di sempre ecco, naturalmente sei felicissima, si vede perché è una macchina così caduta dal cielo diciamo quasi Di punto in bianco, proprio come una macchina, molto molto bene, contentissima